Un video oggi dal produttore al consumatore Perché dico così? Perché oggi parliamo di un brand di profumeria artistica quindi prodotto artigianale Meleg Parfums dal Canada che nasce dalla passione di un ragazzo come noi affetto da droganza che ha voluto realizzare il suo sogno di creare un brand di profumi cosa che intendo fare anche io ma dal produttore al consumatore nel senso dal produttore di film porno al consumatore di film porno perché questa fragranza si ispira a una zona molto particolare di Tokyo in Giappone quale lo scopriremo insieme Ciao ragazzi bentornati su Odoriamola con Bruce Willis con Mirko questo è l'unico canale in Italia che parla di profumi in generale fragranze maschili e unisex soprattutto dal punto di vista dell'opinione femminile mi focalizzo il focus va all'opinione femminile in modo tale che in questo mare di fragranze possiamo individuare tendenzialmente quelle che piacciono di più alle donne quindi diciamo evitare uno step questa storia prende ispirazione da un viaggio il viaggio fatto da Matthew Meleg fondatore di questa casa appunto nel lontanissimo Giappone che si è un'unico canale in generale Ben dieci anni per Matthew Meleg passati nella città di Tokyo Adesso immergiamoci, come dice Fabio Caressa, nell'atmosfera del Golden Guy Ovvero un quartiere all'interno del più grande Red Light District del mondo Appena fuori dall'uscita est della stazione di Shinshuku a Tokyo c'è Kabuki-cho Un posto dove praticamente ci trovi sia tipo le puttane eccetera Poi se non stai attento ci puoi trovare anche qualche personaggio losco che ti potrebbe dire Kabuki-cho-wai Ma pensate, praticamente 24x7, specialmente nella notte vive il massimo del suo apice Locali, musicate al vivo, musei di samurai Posti che vendono gadget di Godzilla, puttane, discoteche Tipo Massage Parlor Localini con le gabbie, con le troie dentro C'è un delirio Famosi love hotel, quelle cabine che vengono affittate per qualche ora A volte anche molto meno di un'ora Dove praticamente porti o la ragazza che hai conosciuto al bar O la fuitina Tipo, se ci sono tipo due palermitani in vacanza Fate la fuitina al love hotel di Tokyo E in tutto questo, questo quartiere Golden Guy Si trova all'interno del Red Light District Ma è tipo un mondo a parte C'è il ritrovo di tutti gli intellettuali e gli artisti Quindi cosa accade lì? Tu puoi prenderti un bicchiere Di qualsiasi cosa Whisky, rum, un cocktail, qualsiasi cosa E tipo dietro di te mi raccontava Matthew Melec Infatti ringrazio Matthew Melec per avermi mandato questa fragranza Che mi piace molto, devo dire Poi ci sarebbe da chiedersi perché a un personaggio come mi mandano proprio questa fragranza Considerando queste vicissitudini e questa storia che ci sta dietro Ma sono domande che ci porremo in separata sede Come quella come mai in italiano si è scelto di brindare al grido di cin cin E cin cin in giappone se vuol dire cazzo Sono domande che ci porremo in separata sede Quindi dicevamo che all'interno di questa zona, il Kabuki Cho Il Golden Guy era il posto dove giacevano i poeti, i drammaturghi Il posto da pazzi, cioè più di 300 bar Però tutti piccolissimi, cioè compressissimi Massimo possono entrarci tre, quattro, cinque persone Due tavolini e il bancone basta Cioè posti veramente da come solo una città come Tokyo può regalare Infatti è uno dei miei più grandi sogni andare a Tokyo Mettete like se anche voi volete andare a Tokyo insieme a me Al Golden Guy Ma questo è un altro discorso Fatemelo sapere nei commenti se vorreste andare al Golden Guy Mi accompagna e soprattutto quale fragranza indossereste all'interno del contesto del Golden Guy Ogni piccolo ingresso è ricoperto di adesivi Invecchiato e decadente praticamente Molti edifici ospitano più di un bar Quindi magari uno accanto all'altro potreste trovare due bar piccolissimi Con due stili completamente differenti Uno è ambientato al mondo degli scacchi Uno è ambientato nel punk inglese anni 70 Uno è sullo stile diciamo latino Uno è sullo stile del flamenco Insomma un delirio Mi raccontava addirittura che c'è un pub che si chiama Pro Wrestling Dove praticamente ci sono i lottatori di sumo al suo interno E non si può consumare al locale se non indossi una maschera da sumo Cioè robe come solo i giapponesi sanno fare Cioè i giapponesi sono il non plus ultra della rigidità Come il non plus ultra dell'estremismo Da tutti i punti di vista E non hanno nessun timore reverenziale a Insomma godere dei piaceri della vita Appunto perché si sbattono molto Un po' come si diceva dei bergamaschi Mi dicevano Bergamasco lavora molto Però si diverte anche molto Mi dicevano tanti anni fa E poi ho detto Cazzo i tedeschi sono uguali E i giapponesi sono uguali Quindi Bergamo come Tokyo Un posto dove ci potresti trovare anche delle persone Che magari sono lì da una settimana e ancora non sono ritornate a casa Cioè scene veramente da proprio gli ultimi rimasti Cioè siamo al... Suodoriamola con Mirko Lo ricordo Infatti iscrivetevi se ancora non l'avete fatto E questo profumo che si presenta in questa confezione di legno Fatto a mano Con questa paia a ricordare un po' Anche le atmosfere di campagna Perché il signor Meleg è cresciuto all'interno di una fattoria Quindi ci tiene a riportare anche un po' queste atmosfere da fattoria Questo è il flacone Di Golden Guy Sono più o meno tutti simili Product of Canada Blablabla Eccetera Vede Product of Canada Golden Guy Questo è in vera cera Ed è stampato a mano Nello specifico Golden Guy È ispirato a un posto specifico Della... Dell'area del Golden Guy Questo posto sa di sigarette Perché ancora si può... Si può fumare all'interno dei locali Sa di resti di tabacco lasciati lì Dal Barisa stesso Che magari si è acceso un sigaro Una pipa Una sigaretta Come anche l'odore degli alcolici Perché questi bar sono sempre strapieni di bottiglie Bottiglie che magari sono lì da anni No? E questa fragranza Io l'ho anche comunicato a lui Mi ha subito fatto pensare al colore rosso Infatti per l'occasione ho indossato una camicia rossa A simboleggiare un po' l'atmosfera del Golden Guy E lui mi ha detto Guarda È esattamente quello che io volevo rappresentare Ovvero i divanetti di velluto Di questo piccolissimo locale Praticamente lui ha incontrato una tizia Questa qui praticamente ha preso un liquore all'amora Che io tra l'altro adoro Lo Chambord Liquore che io acquistavo anche abbastanza spesso nel passato E quindi forse per questo mi è piaciuta subito E in più appunto questo tabacco Tabacco, vaniglia e Chambord Nello specifico cosa ha fatto Matthew Melegg? Ha preso il tabacco e lo ha lasciato macerare all'interno dello Chambord Poi con che tecniche non lo so Però è stato fatto questo Tra l'altro nel racconto che lui ha fatto di questa storia Lui ha anche consumato all'interno di uno di questi famosissimi love hotels di Golden Guy E quindi c'è anche un Cioè è molto sessuale la cosa Cioè scopare al Golden Guy è come dire Venire a casa mia e odorare un profumo Cioè nel senso vieni per scopare Quali sono le note di questo Golden Guy? E soprattutto ha negabilità E soprattutto ha una stagione specifica Secondo me è più autunno-inverno Perché è proprio un'atmosfera calda, accogliente Siamo in uno spazio al chiuso Ed è proprio adatta a questo tipo di scopo Cioè potrebbe essere una fragranza per un date, sì Ma la ragazza deve essere una persona un po' viziosa Cioè una che ha uno sguardo un po' Non dico da troia però tipo Cioè una che ci sa fare con la seduzione Può apprezzare Golden Guy Se state uscendo con una ragazza di questo genere Ve la consiglio altamente Le note sono anche molto interessanti E molto particolari rispetto agli standard Come già avrete potuto intuire Anice, finocchio Non ridete Liquido Chambor, tabacco e vaniglia Quindi già si capisce che Cioè è una fragranza molto cozy Appunto vuole ricordare i divanetti di velluto È un'atmosfera un po' sporchina Una fragranza rough Non è una fragranza Nemmeno troppo piaciona Perché per esempio non ha la fava tonka Che rende tutto diciamo un pochettino più dark Questa è proprio un'atmosfera Di un posto al chiuso Dove c'è un po' di sporcizia Però sporcizia sexy Cioè è una sporci... La sporcizia non è mai sexy Però capite cosa voglio dire? Cioè è un posto dove fare delle cose zozze Ecco, sporco nel senso di zozzo Ha un sillage abbastanza buono Viene percepito molto bene E con assoluta curiosità dalle persone Una persistenza molto buona Cioè io l'ho indossato per una notte intera Poi sono andato a letto E l'indomani si sentiva ancora Quindi devo dire che le prestazioni sono più che buone È da poco che la posseggo Però i primi giudizi che ho captato Da parte dell'emisfero femminile Sono tutti positivi Quindi per me è approvata Mi fa piacere, diciamo da questo punto di vista Supportare una persona che comunque Si è creato qualcosa da solo E fatelo anche con me Magari scrivendo un commento O mettendo like Magari un giorno potrò creare anch'io Il mio golden guy O robe del genere Anche se io ho già in mente Quello che vorrei fare E spero che Mi aiuterete appunto In questo processo Un processo Alle intenzioni No, le intenzioni che ho Sono in questo momento Quelle di chiudere questo video Perché prima o poi deve finire Tutte le cose belle finiscono Ma ci saranno tante tante cose A venire Questo è uno degli ultimi video All'interno della mia location storica Mi sto per mettere a piangere Forse l'ultimo Non lo so se è l'ultimo Comunque Comunque Iscrivetevi al canale Fatemi sapere che cosa le pensate Di questo golden guy Se vi è emozionoso Se vi è incuriosito Se anche voi vorreste andare Nel quartiere di golden guy E mi raccomando Come dico sempre L'abito non fa il monaco Non lo fa Ma l'abito Più una fragranza Potrebbe fare Il principato di monaco Almeno per voi Perché vi potreste Elevare A uno stato nobiliare Che invece Non avreste di vostro Perché fondamentalmente Fate schifo Alla minchia Ciao Grazie 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 Grazie